Da una cazzata a una figata. Un caro telespettatore ha commentato un mio video evidenziando che riemerge sempre qualcosa di patriarcale. Perché quando qualcuno di noi fa qualche sbaglio si dice che ha fatto una cazzata, invece quando qualcuno di noi fa una bella cosa si dice che ha fatto una figata. Sì, riemerge sempre qualcosa del lontano matriarcato caro amico. Uno dei libri più belli che ci parlano del riemergere periodico del matriarcato all'interno del patriarcato è questo libro di Giorgio Galli, Occidente misterioso. Baccanti, gnostici, streghe, i vinti della storia e la loro eredità. Questo libro è stato nel catalogo Rizzoli, poi si vede che Rizzoli non l'ha voluto più pubblicare e adesso mi pare che sta nel catalogo Caos Edizioni. È un libro fantastico cari amici, un libro fantastico. Sta alla pari con mie opere come queste, capito? Questa mia opera è così vera, che è stata tradotta in lingua inglese. Beh, io questo libro ve lo mostro, vi potete fare un regalo meraviglioso, se non lo trovate più nel catalogo Rizzoli, lo trovate nel catalogo Caos Edizioni. Caos Edizioni è una lettura meravigliosa. Sì, sì cari amici, quando uno coppie qualche errore madornale gli si dice hai fatto una cazzata? Però se uno fa qualcosa di interessante, di bello, gli si dice hai fatto una figata. Riemerge la superiorità della figa nei confronti del cazzo. Tant'è vero che quando noi vogliamo, diciamo così, far capire a un uomo che vale poco, gli si dice ma taci tu che sei una testa di cazzo. Quindi relativamente alle locuzioni, alle espressioni idiomatiche, ma che bella figata, ma che cazzata, troviamo il riemergere periodico del matriarcato. Vedete qua? Baccanti, gnostici, streghe, i vinti della storia e la loro verità. Qua, questo grande sociologo Giorgio Galli, dimostra come in patriarcato riemerge periodicamente qualcosa di matriarcato, è come un fiume carsico che scorre nel sottosuolo, però periodicamente riemerge in superficie. Quindi, bellissimo, bellissimo, è bellissimo constatare come questo bravo telespettatore, la cui osservazione la metterò nel riassunto di questo video, abbia intuito come all'interno del patriarcato riemerge sempre qualcosa di matriarcale, capito? E questo saggio, questo saggio, lo dimostra egregiamente con una grandissima documentazione storica. Bene, cari amici, ringrazio l'amico che mi ha fatto quel meraviglioso commento, e lo trovate quel meraviglioso commento nel riassunto di questo video. Ringrazio tutti voi, ovviamente salutandovi alla mia maniera, capito, cari amici? Tanti cari saluti da Serafino Massoni.